Una fede vissuta e non semplicemente indossata, una terra illuminata dal coraggio dei martiri, un popolo orgoglioso che ha molto sofferto attraverso i secoli, ma è sempre tornato a rinascere. È l'Armenia ad aver accolto Papa Francesco per il suo quattordicesimo viaggio apostolico. L'Airbus A321 dell'Alitalia è atterrato alle 14.50 all'aeroporto di Jerevan, accolto dal Presidente della Repubblica Serkisian, nonché dal cattolico assarmeno apostolico, carichi in secondo, il Pontefice si è subito recato a Etch-Miazin, cuore storico della Chiesa, sin dal 301, quando la nazione caucasica abbracciò il Vangelo. Nella cattedrale apostolica, costruita secondo la tradizione, nel sito indicato da Cristo, apparso in sonno a San Gregorio l'Illuminatore, Papa Bergoglio ha reso omaggio alla forza della fede dell'Armenia, tenace e profonda. Proprio la forza dell'amore di Cristo oggi dovrebbe favorire il cammino ecumenico, mostrando una concreta via percorribile per armonizzare i conflitti che lacerano la vita civile e scavano divisioni difficili da sanare. In un mondo segnato da conflitti, come pure da gravi forme di povertà materiale e spirituale, ha chiarito il Pontefice nel suo saluto, sulla scia delle parole del cattolico S, l'unità fra i discepoli del Signore impedisce la strumentalizzazione e manipolazione della fede, offrendo al mondo una convincente testimonianza che Cristo è vivo e operante, capace di aprire sempre nuove vie di riconciliazione tra le nazioni, le civiltà e le religioni. Si attesta e si rende così credibile che Dio è amore e misericordia.